Ecco, qui c'è Francesco Rosa, sempre molto tenebroso, è un quadro molto sporco, necessiterebbe di una pulitura, però il suo tenebrismo è ben evidente, ma soprattutto si vede che tra le mani c'è una tela nella tela, tiene un dipinto, un San Giovanni Battista, un ecce Agnus Dei, che opera chiaramente di ispirazione carraccesca, quindi c'è un dipinto di Annibale Carracci, quindi deriva da questo, quindi la sua cultura in questo momento era quella lì, era una cultura emiliana. Qui c'è un'incisione di Cesare Fanetti che rappresenta un importante dipinto di Francesco Rosa, lo sbarco di Agrippina a Brindisi. Fino a pochi anni fa si conosceva soltanto l'incisione. Il dipinto di Francesco Rosa fu esposto a San Giovanni De Collato e molti dei visitatori di questa esposizione lo attribuirono a Poussin, pensavano che fosse un'opera di Poussin. Tanto che il primo stato dell'incisione, ci sono due stati differenti dell'incisione, riporta come inventore Poussin, non Francesco Rosa, mentre il secondo stato corregge e inserisce la corretta attribuzione. Recentemente, vi dicevo, il dipinto è stato ritrovato, sono due tele differenti, questa versione è stata ritrovata da Susanna Dobos, che lavora nel Museo Ungherese in Ungheria e nella Galleria Nazionale dell'Ungheria a Budapest, e l'ha trovato, questo dipinto si trova in una collezione privata a Miskolk, presso Budapest, prima era passata in un'asta sempre a Budapest e poi è andata a finire. Vedete, è chiaramente quella composizione. Un'altra versione è stata ritrovata da Stefan Alble, che penso sia qui tra il pubblico, nei depositi di Vienna, del Cuncistoric Museum di Vienna. Io ritengo che questo sia il dipinto ricordato da Pascoli ed esposto a San Giovanni De Collato, perché ci sono alcune variazioni, soprattutto nella parte alta, e questo dipinto ha una perfetta corrispondenza con l'incisione, mentre l'altra versione porta delle variazioni. È un dipinto molto sporco, si riderebbe un intervento conservativo, però è un importante documento. Vedete quali sono in questo momento, siamo intorno al 1670, i riferimenti, naturalmente Poussen, ma anche il maestro Canini. Vedete, il volto di Agrippina è chiaramente ispirato all'incisione di Canini, che è pubblicato nella iconografia, che è un volume pubblicato postumo nel 1662, con i ritratti di tutti i personaggi importanti. Vedete la treccia, è proprio ispirato, è un omaggio al suo maestro di Francesco Rosa Canini, ma anche la figura, diciamo, del soldato in primo piano, che ricorda il Belisario, ricorda il Diogene, è sempre debitrice nei confronti del maestro Canini, e questa è una pala che si trova, il Pascio Vesmeas di Canini, che si trova a San Giovanni dei Fiorentini. E anche, ecco, questa è una pessima foto di un dipinto che io ritengo sia sempre mano di Francesco Rosa, con una vaga ispirazione sempre pussegnana, ma ancora non ci sono elementi rosiani, cioè elementi riferiti al pittore napoletano. Ecco, qui volevo, in questa occasione, segnalo il ritrovamento di due pale di Francesco Rosa, che si trovavano proprio qui vicino, nella chiesa di San Vincenzo e Anastasio, e questi due dipinti sono passati in asta da Cristis nel 2012, e io, come pittore del Nord Italia, io ho riconosciuto subito la mano di Francesco Rosa, che già risente dell'influsso di Salvatore Rosa, in particolare la figura di sinistra, quel modo di panneggiare, questi panneggi un po' pesanti, anche un po' il cromatismo, ecco, lui comincia ad avvicinarsi a Salvatore Rosa. E la seconda pala è questo sogno di Giuseppe, sono due dipinti in pandana, vedete in basso il mosè di Francesco Rosa e il sogno di Giuseppe, Giuseppe ripropone un po' la stessa tipologia di figura specularmente. Ecco, questi due dipinti, quando io li vidi, insomma, non avevo dei riferimenti documentari. Maria Barbara Guerrieri Borsoia ha pubblicato un interessante articolo proprio sulla chiesa di San Vincenzo e Anastasio, dove c'erano ben sei quadri di Francesco Rosa. Tra questi due c'erano naturalmente il sogno di Giuseppe e c'erano, e l'altro dipinto, l'annunciazione. Ma già pochi anni dopo, nel 78, la chiesa era amministratta, gestita dai caracciolini, dai chierici regolari minori, di San Francesco Caracciolo, e per questi due dipinti, alcuni di questi dipinti furono restituiti al pittore. Non si sa bene per quale motivo, forse perché non piacevano, o per qualche altra motivazione che noi non sappiamo. E comunque nella chiesa rimasero delle pale. Poi, compresa la pala dell'altale maggiore, sostituita alla fine del Settecento, da un dipinto di un altro autore. Tanto che oggi non c'è più nessun quadro di Francesco Rosa all'interno della chiesa che si presenta in una fascia completamente diversa da quello che era l'assetto seicentesco. Questi due dipinti sono databili tra il 72-73 e il 75. Quindi queste accentuazioni rossiane, ecco, cominciano a comparire in questi anni. Anche in questo caso è un dipinto passato in asta da Cristis sempre nel luglio del 2012 come opera di Salvador Rosa, con una lunga schedatura e con riferimento alla provenienza di questo dipinto dalla collezione Galizzin, dove era presente con l'attribuzione appunto a Salvador Rosa. In un inventario della fine del Settecento e in un inventario successivo degli anni Trenta dell'Ottocento. Praticamente per supportare questa incongrua attribuzione a Salvador Rosa il dipinto era stato identificato come una rappresentazione della Divina Sapienza perché in alcune lettere che riguardano appunto Salvador Rosa, che Caterina ben conosce, si parla della proposta di realizzare un dipinto di questo soggetto, di realizzare una Divina Sapienza. Ma quest'opera probabilmente non fu mai realizzata e anche nel volume, nella monumentale monografia di Caterina non c'è alcun cenno alla presenza di un'opera di questo tipo. Ma in realtà questa non è una rappresentazione della Divina Sapienza che ha tutt'altra iconografia, ma è una rappresentazione della verità. Vi leggo la descrizione che ne dà il Ripa, Cesare Ripa, che ha scritto la famosa iconologia. Ripa, appunto, descrive tale virtù nelle sembianze di una bellissima donna ignuda tiene nella destra mano alta il sole e con l'altra un libro aperto più avanti come donna risplendente di nobile aspetto vestita di color bianco pomposamente con chioma d'oro e, a dirimere ogni dubbio, che tiene nella destra mano vicino al cuore una persica, una pesca, con una sola foglia ad indicare che la verità è una sola. Naturalmente i capelli biondi, il libro, il sole raffigurato sul petto della fanciulla, la pesca diventano elementi distintivi della verità. Gli artisti, naturalmente, avevano una certa libertà nell'interpretazione di queste indicazioni di Cesare Ripa, però l'iconografia è chiara, tanto che negli inventari Galizzi viene descritta come rappresentazione della verità, non della Divina Sapienza. e la tipologia è quella ricorrente della figura nei dipinti di Francesco Rosa. Questo è un particolare del Miracolo di Monserrato che io ho avuto un po' la vicissitudine di ritrovare. Era la pala dell'altare maggiore di Santa... Questo è un dettaglio. La pala dell'altare maggiore della Chiesa Spagnola di Santa Maria di Monserrato che nei primi dell'Ottocento fu messa all'asta insieme ad altri beni della Chiesa Spagnola e tutti questi beni furono acquistati dal comune di Genzano sui castelli romani e adesso questa enorme pala si trova nel transetto nel transetto destro del Duomo della Chiesa Nuova di Genzano. Un'opera di grande importanza nella produzione di quest'artista. Fu pagata una somma ingente, 600 scudi e si vede l'influsso di Salvatore Rosa è presente, siamo intorno al 74-75 e recentemente è emersa anche la firma uno studioso spagnolo che ha studiato questa pala si è accorto che c'era la firma e vedete Francesco Rosa in basso a destra. Questo dipinto invece è presente sempre qui nelle collezioni dell'Accademia di San Luca è la figlia di Francesco Rosa Marta Rosa anche lei pittrice sembra anche se non abbiamo nulla con delle rose in mano e c'è sempre quel tenebrismo e la tipologia della figura assomiglia molto alla verità che abbiamo visto precedentemente. Ecco, sempre nei depositi del Concistorius Museum di Vienna è stato pubblicato da Proasca questo dipinto attribuendolo a Cerrini io non ci vedo la mano di Cerrini ma è un dipinto sempre legato a questa ripresa di soggetti filosofici poi inusitati che prende vigore ancora a Roma nella seconda metà del Seicento e i modi sembrano sempre quelli di Francesco Rosa. Ecco, io ho finito e mi auguro che vengano trovati altri dipinti in modo da incrementare questo catalogo che è ancora abbastanza legato a pochi numeri. grazie Francesco perché questa definizione di questo pittore che in effetti oltre al nome molto riprende non dal maestro perché in realtà nelle pale che ci hai fatto vedere anche in altri dipinti chiaramente c'era una forma di identificazione al di là del nome evidentemente il mercato chiedeva chiedeva morto Salvatore Rosa delle opere nello stile quindi probabilmente era questa la motivazione per cui certo a me è venuto anche il dubbio tanti dipinti girano sul mercato che sono nello stile di Salvatore Rosa quindi qualcosa qualcos'altro l'ha fatto magari ancora più mimeticamente certo per ingannare Salerno che ha scritto la monografia per produrre questo ripensamento in Salerno perché in primo momento l'aveva respinto l'aveva respinto anche altre cose poi le ha riaccolte quindi insomma qualche motivo di riflessione c'è certo ma gli studi vanno avanti e quindi si chiariscono molto di più i cataloghi degli artisti i loro imitatori cioè questo discorso di dipingere alla maniera una volta morti i pittori c'era una maggior richiesta per cui questo è un fatto che spesso non si crea il mercato chiede quindi la spinta economica porta a queste imitazioni che poi gli storici devono cercare di scavare a queste attraverso Grazie.